Quando parliamo di un nuovo corso del Partito Democratico e quando parliamo di un nuovo corso che punta alla legalità significa che noi, facendo anche il mia pulpa rispetto al passato, noi rispetto a quello che è tutto il panorama del centro-destra versato quello che è oggi maggioranza e opposizione, è quello che sono gli ultimi 12 anni di amministrazione di centro-destra e il fallimento di questi 12 anni sono oramai agli occhi di tutti, tant'è che su un tema così importante per una trasformazione radicale per la città di Arezza incorriamo in un problema del centro. Questa è la puntualizzazione. Poi ovviamente il lavoro che poi sarà fatto, sarà fatto un lavoro non solo in dibattito politico, diciamo cittadino e in sezione, ma sarà avviato chiaramente un percorso di istituzione attraverso il nostro Consigliere Comunale. Per entrare con il merito della sentenza passo la parola al nostro delegato provinciale, al nostro dirigente provinciale, l'Avvocato. Sì, grazie a Carmine e a Elena che hanno introdotto il tema di carattere generale e tema politico, ma io mi voglio soffermare sul senso di questa conferenza statica. Staglio diceva bene, lo diceva anche Elena, il nuovo corso si intende anche nel non tacere, nel non mettere notizie, situazioni, questioni diciamo poco lineali, un quadro un po' torpido, e quindi anche dire certe cose, chiedere chiarezza e contezza di certi meccanismi, per noi significa anche questo nuovo corso. Cioè esistono praticamente anche delle responsabilità omissive, e in politica io penso che hanno addirittura, come dire, una responsabilità ulteriore rispetto a chi gestisce la responsabilità. Chi esercita un'opposizione costruttiva di governo ha anche il dovere, e noi lo sentiamo fortemente, che laddove qualcosa non quadri o non c'è chiaro, ci si rimette agli organismi deputati per legge o per norma. Noi siamo stati fortunati, vi dico una cosa, perché questo dubbio che noi abbiamo avuto nel legge della sentenza del Tato, che in qualche modo ha accorto il ricorso del ritorno, quindi ha arrivato la gara della riqualificazione del palco corso del parco urbano, sapendo di Fialess, veramente noi siamo rimasti molto, ma molto preoccupati, perché dalla sentenza emerge, ripeto, dalle motivazioni della sentenza, non solo le nostre argomentazioni, sono argomentazioni del Tato Campania, del collegio della prima sezione, e che questa è una sentenza che tutta quella città conosce, però come dire, come sempre, in questa città i dosicolti coloretti bianchi dicono quello che vogliono e unì, se non si dire, dove invece si dovrebbe dire. Il PD nuovo, questo PD, cambia verso anche in questa situazione, dice le cose come stanno, si ha dubbi, fa una conferenza stampa, si rivolge alle autorità pubbliche preposte a ciò. Dicevo siamo stati fortunati, perché? Perché voi tutti, proprio stamattina nel leggere i quotidiani nazionali, avete visto che un altro caso di grande emozione, questo lo fa essere la più emozione, sta distruggendo il futuro dei nostri figli, sta distruggendo praticamente anche la possibilità di una ripresa finanziaria. Noi invece vogliamo che le cose si fanno, bisogna invertire la realtà, bisogna creare occupazioni, ma bisogna farlo nella legalità, nel rispetto. E la fortuna che abbiamo avuto è che ci è incontro l'ultimo decreto del nostro governo, del governo Renzi, che di fatto abolisce, con il decreto nuovo anno 2014, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dando anche le competenze di tale risciolta autorità all'ANAC. L'ANAC è l'autorità nazionale a rivoluzione che è preseduta dall'ottimo Raffaele Cantoni, grande scelta del Presidente Renzi, perché un nome credibile, spendibile, serio, competente, equilibrato come Raffaele Cantoni, in Italia è difficile da fare. Quindi oggi, siccome quella sentenza che dice che noi arriveremo con un esposto di accompagnamento, e che voi avete in coppia, rende un quadro poco chiaro, poco trasparente, in ordine al comportamento e ai rapporti tra la giudicataria poi annullata per l'effetto del ricorso, la sua, la stazione unica portante, il comune di adesso. Questa opacità, questa situazione poco lineare, noi vogliamo che sia un ordine terzo. E questa è garanzia di tutti, guardate, è garanzia anche delle stesse parti che in qualche modo, come dire, avranno, nel momento in cui l'autorità anticroduzione si preoccuperà con un istruttore che noi chiediamo che sia piena e che non ci siano zone d'ombre. Cioè nel senso che noi andiamo a chiedere al Presidente Cantoni di acquisire, nell'ambito di potere dell'attituzione di legge, fin dall'inizio della predisposizione del bando di care e tutto l'iter complesso procedimentale fino alla giudicazione definitiva. Perché noi sappiamo che anche in serie di partecipazione alla gara, anche progettuale, ci sono state, e quindi gli atti procedimentali emergeranno, ci sono state praticamente dei rilievi anche di giustificazione da parte di tecnici che dicevano cose serie, che andavano in qualche modo a sottolineare delle indigibilità, delle situazioni poco chiare, rispetto alla quale la stazione appaltante che si è occupata di questa gara, come dire, ha omesso, in modo di cui il TAR, da un quadro molto preoccupante, praticamente, del compito e delle attituzioni del caso di specie della sua di Caserano. Quindi noi vogliamo vederci. Benzetto, buongiorno e grazie per essere venuti di San Paolo Martina, a fare un prezzo stampa dove, aspetto alla quale, in un tema molto è stato scritto, però diceva giustamente bene, andiamo prima, non si è mai entrato nel merito del problema e della questione. Lui l'ha accolto e l'ha spiegato benissimo la cosa. Io penso che questo fatto sia emblematico di quello che è l'operato dell'amministrazione da un paio di anni a questa parte. L'amministratore che tende a programmare e a proclamare, ma che di fatto non porta a complimento a nessuno degli atti programmati. Il Parco Pozzi doveva essere il primo di lunga serie di opere pubbliche che portavano poi al cambiamento della città. È evidente, dopo il Parco Pozzi doveva essere il Vitoriasi, l'Olimpico, ma non battendo il Parco Pozzi è evidente che ci sono delle difficoltà anche nel procedere rispetto all'attribuzione delle altre gare. Io coglierei proprio l'occasione per paragonare quello che è successo durante l'iter amministratore del Parco Pozzi rispetto a quello che è poi il senso politico di questa amministrazione. Noi come opposizione abbiamo provato a convoccare una commissione consigliare per cercare di capire effettivamente cosa è successo di cercare di avere l'interlocuzione con il dirigente che poi era anche il gruppo, quindi colui che di fatto ha espletato la gara, andando a giudicare le migliorie, non andando a verificare le migliorie perché la sentenza è chiara, c'è qualcosa che è opinabile rispetto all'operato del dirigente. Io penso che noi con forza, l'abbiamo detto, lo diremo anche in sede consigliare, se la responsabilità è di qualcuno, ma anche se fosse un dirigente a ramo, è evidente che non può passare di osservare. Se la dobbiamo smettere con le condizioni per la quale nessuno ha la responsabilità di nulla. Se c'è una responsabilità oggettiva, confermata, io dico che l'amministrazione del sindaco in testa si deve assumere la responsabilità di sostituire i dirigenti, perché non può succedere che per colpa di un dirigente dell'incompetenza, dell'incapacità o anche di qualche altra cosa di un dirigente, una città possa essere privata di 2 milioni e mezzo di euro e di un'opera che di fatto dovrebbe avviare il cambiamento per portarci con rispetto a quella che è una programmazione più complessa per il complimento del millennio, perché queste altre cose che sono dei suoi programmi. Quindi io penso che il tema è molto politico, oltre che tecnico, ed è politico anche quando, pochi giorni fa, l'assessore a ramo, l'assessore barbato, lo lancia, fa un comunicato che di fatto chiede, tra virgolette, alla ditta di non ricorre alla confine di Stato. Io penso che una cosa del genere è gravissima, perché non può lui che è assessore a ramo e quindi di fatto ha un'influenza politica rispetto a tutto quello che attiene ai lavori pubblici, di dire questa cosa, perché può essere letta o in dono di minacce, di provocazione, o come auspicio per chissà poi cosa deve succedere. Invece si è ingarguiata completamente la situazione, quindi abbiamo pensato e crediamo che la cosa migliore sia preparare questo posto, mandarlo all'anticorruzione e verificare poi politicamente l'amministrazione come intende il procedere, perché l'altra cosa nuova è il silenzio dell'amministrazione. Il sindaco e la giunta deve dire oggi cosa vuole fare. Le storie sono due, o affida i lavori alla seconda ditta che si indicata, quindi quella ritorrente, oppure aspetta nel caso in cui c'è il ritorso di quella che si è giudicata alla gara, ma una delle due cose deve fare, non vuol non scegliere, il tema della no scelta è un tema che oggi non sussiste. Questo è quello che noi abbiamo pensato e vi volevamo comunicare. Io dopo che facciamo quella chiacchierata, vi ho occasione di parlare con il sindaco e di dire al sindaco vuoi dare una tua opinione su questa faccenda? Allora lui mi rispose prima di tutto il TAR non ha annullato la gara, ma solo l'assegnazione, quindi si può tranquillamente procedere al secondo, passare al secondo, ma questo deve fare il suo altro, meglio lo deve fare il sindaco e il comune, no? E poi disse ufficialmente, noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, quindi se non ci sono comunicazioni non posso rilasciare dichiarazioni. Allora per i cittadini normali la sentenza del TAR che cosa fa? Ha annullato la gara? O ha semplicemente detto quella ditta non deve vincere perché già ci sono dei problemi? E questi eventuali problemi per i quali su quella nota voi vi rivolgete al canto e mettono in dubbio in luce un comportamento di un amministratore, di un funzionario del comune di Aversa che avrebbe voluto in qualche modo facilitare quell'azienda a vincere perché ci stanno dei rapporti, di amicizie, di conoscenze, di interesse. Andando a non considerare alcune cose, voi l'avete scritto, se non si fanno i lavori, se non si fanno i lavori, praticamente non si chiede di più. Se io faccio una gara, che si so, lavorerò per aggiustare sta stanza, però poi penso di non dipingere nulla, però la pittura voglio comunque ci vanno solo, e quindi dovresti dare dei dettagli specifici che è quello che noi dobbiamo dire, non tanto il vostro comportamento che è giusto, la legalità la vogliamo tutti, pure il sindaco, la legalità, la legalità. Noi accogliamo l'invito alla trasparenza. Allora, appunto, a questa domanda rispondo in maniera molto sintetica e chiara, spero, spero, ma sempre. Il ricorrente che ha proposto il ricorso ha fatto sette motivi di ricorso, cioè ha articolato sette motivi per i quali dice devi accogliere quello di unico. Il comune di Alessa e l'aggiudicatario, nel costituirsi, hanno a loro volta fatto delle domande incidentali, cioè a loro volta delle domande autonome, per tre motivi. Il TAR ha rigettato i motivi del comune di Alessa e della società del consorzio aggiudicatario e ha accolto i motivi del ricorrente. In modo particolare, nel primo motivo, totalmente accolto dal TAR, che per sintesi vi dico anche le cui motivazioni sono in cinque pagine, dalla pagina 16 alla pagina 21 della sentenza, sostanzialmente che cosa dice? Dice che la sua, la stazione unica portante, ha praticamente concesso dei punti, perché la gara era sulla qualità e su altri requisiti, alla giudicataria, alla ditta arrivata prima, diciamo alla giudicataria, su fatti non rispondenti al vero. Fa un esempio, la sua, dove dice che la stazione apportante, la giudicataria, che è la ditta che poi si è indicata e che è stata poi annullata l'aggiudicazione, non avrebbe indicato i costi di 19 migliorie e lavorazioni aggiuntive per un importo di 213.148,60, con la conseguenza, lo dice il TAR, non dico io, di aver determinato la totale erosione dell'utile di impresa e l'assorbimento delle spese generali, oltre all'assegnazione a tale concorrente di un giustificato conteggio tecnico, risultato alla fine decisivo per il mese del confronto concorrenziale.